Buongiorno. Presidente, buongiorno. Presidente, immagino che ha letto le dichiarazioni, cosa vuol dire? Cosa risponde a Calavale? Ah sì, ho sentito che ha letto questa cosa. Ma è veramente un tipo di domanda che vorrei fare io a lui o a loro, quella di cosa è successo a Calciopoli. Comunque, la sua buona volontà, se è buona volontà per il momento, io devo dire che non ho risposte da dare, perché mi sembra che quello che mi pese di più sia ancora tutto quello che è successo allora contro di noi. Quindi non vedo che tipo di giustificazione debba trovare io, ma è il contrario, da quel punto di vista. Per il resto non voglio giudicare il tono, che non mi è piaciuto per niente. Ha parlato di reputazione personale. Sì, punti. Non ti posso? Si vederà a questo tavolo. Grazie. No, ma io penso che in quel tavolo lì si divertiranno molto di più a sedersi fra di loro che alla rimpatriata. Io sarei noiosissimo, penso. Grazie.